Un rumore improvviso, poi il fuoco, una Mercedes nera in sosta in via San Polo è stata avvolta dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi, tra l'ingredulità degli esercenti e degli automobilisti della zona. Al primo segnale è scattato l'allarme sul centralino del 115, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per domare il rogo per mettere in sicurezza la zona. Le fiamme, viste le circostanze temporali, si sarebbero propagate per cause accidentali. Ad accorgersi del rogo è stata la proprietaria, un'imprenditrice della zona che stava pranzando con il ragazzo in un locale, una fatalità che ha spaventato e non poco il quartiere, nessuna vettura in sosta nelle vicinanze ha subito danni.